Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Ma fatti ici tuoi. Affari tuoi, tensione in puntata. Tutti contro Luca, ma soprattutto contro suo figlio. Ma andiamo con ordine. Nell'ultima puntata di Affari tuoi, il programma condotto da Amadeus, andata in onda il 17 gennaio, mercoledì, Luca da Forlì è stato il personaggio principale. Nonostante la sua giovane età, Luca è padre di un adolescente e ha sorpreso tutti con la sua intuizione durante il gioco. La partita si è svolta senza problemi, con Luca che ha eliminato quasi tutti i pacchi blu. Ha rifiutato offerte significative dal dottore, che in totale superavano i 40.000 euro. Luca è rimasto fermo sulla sua decisione, non ha mai cambiato il suo pacco e alla fine è arrivato all'ultimo turno con un pacco da 50.000 euro da aprire e uno da 100.000 euro. Questi due premi rossi erano molto allettanti e avrebbero attirato chiunque. A questo punto, il dottore ha fatto l'ultima offerta, quella finale, che ammontava a ben 75.000 euro. Luca, per evitare di correre rischi, ha accettato l'offerta e ha portato a casa una somma davvero ghiotta. Tuttavia, ciò che ha colpito i telespettatori sono state le insolite previsioni di Luca, che aveva ipotizzato la presenza di 100.000 euro nel pacco rimasto sul banco dei pacchisti e 50.000 euro nel suo. Invece, le cose sono andate in modo completamente diverso. Dopo aver accettato l'offerta, Luca ha scoperto che il pacco che aveva in mano conteneva proprio i 100.000 euro. Questo ha scatenato una serie di commenti sui social media, aveva capito tutto e, ha scritto un telespettatore in tono ironico. Un altro utente ha messo in discussione la decisione finale di Luca, scrivendo, ma questi parenti che ci vanno a fare? E ancora, sono solo una palla al piede. Ha accettato i soldi x colpa del figlio punto che strazio ogni sera sti parenti. Infine, c'è chi è stato categorico, non è più un veggente e qualche utente che ha scritto senza troppi fronzoli, ma fatti i c tuoi. Se tuo padre ti dice una cosa, falla. Insomma, montano le polemiche, ancora una volta, nel gioco più seguito di Rai 1.